In arrivo una boccata d'ossigeno per gli imprenditori della Lunigiana. La Camera di Commercio ha ufficialmente messo a disposizione 300.000 euro per le imprese alluvionate. Si tratta di un contributo a fondo perduto non superiore al 70% delle spese ammissibili e inferiore o pari a 10.000 euro per azienda, finalizzato al ripristino o all'acquisto di materiali e attrezzature andate distrutte nell'evento alluvionale. Fondamentale sarà la tempistica. Le aziende colpite potranno presentare domanda fino al 28 febbraio 2012 ma qualora le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle richieste la concessione del contributo sarà disposta seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Buone notizie anche per le aziende di tutto il territorio sia sul fronte dell'agevolazione che della concessione del credito. È stata infatti prorogata fino alla fine dell'anno la concessione di contributi in conto interessi sui microfinanziamenti tramite banche convenzionate mentre è pronto a partire per la metà del mese un nuovo bando per favorire le imprese che vantano crediti verso enti pubblici. Le dite in credito dunque attraverso una certificazione rilasciata dal Comune potranno essere pagate direttamente dalle banche convenzionate mentre gli interessi saranno a carico della Camera di Commercio. Grazie.